ciao ragazzi vi presento il mio bravo anche questo è un 65 questo è un 65 completamento polini precedentemente avremmo montato una testa maloxi ma era troppo compressa non mi piaceva come andava il motorino come potete vedere anche questo in colorazione martini a me piace tanto monta un filtro malossi una carburatore 13 13 campana questa è una campana in c40 monta e che altro cinghia malossi variatore malossi come marmitta monto una sito plus questo è il motorino che uso più di tutti rispetto agli altri la sito plus da delle belle prestazioni moltissima ripresa e come a lungo in tutto riesco ad arrivare a 62 chilometri di satellitare che è più che soddisfacente in questa configurazione la ruota tocca a terra non perché il cavalletto è rotto ma perché di serie monta le gomme 2 e un quarto 16 io ho montato le due e mezzo 16 sono un pochettino più alte io le sento più stabili e sono anche un po più larghe rispetto a quelle originali sono tutte soddisfatto guardate il tappo martini questo è un tappo riprodotto in 3d e niente volevo presentarvi il mio bravo ciao